Dopo quattro giorni di lavori, i tecnici dell'AMAM hanno individuato il danno che ha causato l'inquinamento alla rete idrica di Camaro Superiore. L'infiltrazione di liquami fognari nelle tubature dell'acqua potabile è avvenuta nelle vie del centro storico, tra la via Palma e la via San Giuseppe. Adesso si dovrà sostituire la condotta fognaria, ormai deteriorata, risalente a più di 60 anni fa per un raggio di 300 metri. Finita l'emergenza, il consigliere della terza circoscrizione, Nunzio Signorino, invita tutti gli abitanti della zona di provvedere ad una pulizia accurata dei propri serbatoi. La preoccupazione dei residenti va oltre la zona circoscritta, quindi arrivano telefonate da tutte le parti, addirittura anche dal Bel Europa. Quindi si figuri. Questo purtroppo perché c'è stata una cattiva informazione e quindi i residenti ovviamente reclamano questo. Insieme ai tecnici anche i vertici dell'AMAM, il presidente Leonardo Termini esclude che le infiltrazioni possono riguardare altre zone limitrofe come Via L'Europa, Bisconte o Monte Piselli. Gli abitanti sempre più preoccupati continuano a tempestare di chiamate il centralino dell'azienda Acque. Noi appena ci siamo resi conto abbiamo fatto tutti gli interventi, prima si pensava a un discorso circoscritto, dopodiché i sondaggi hanno verificato questa situazione, si è subito avvertito, si è messo a disposizione l'autobot per cercare di evitare disagi alla zona, al quartiere. Nel momento in cui i tecnici mi hanno riferito la vedustità e la problematica che poteva continuare per la popolazione, si è subito disposto l'immediata sostituzione, l'integrale rifacimento della rete, così come è venuto qui. Nel momento in cui ci sono di questi interventi, così deve essere perché una rete vedusta di 80 anni oggi non è possibile tollerarla.